Ben ritrovati telespettatori di Cilento Channel con un nuovo appuntamento della rubrica nutrizione e benessere. Qui con me il dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista, che per l'appuntamento di oggi ci parlerà di un ortaggio non molto conosciuto, il secchio. Allora dottore, quali sono le principali proprietà nutrizionali del secchio? Sì, allora come dicevi tu è poco conosciuto in effetti anche perché viene chiamato con diversi nomi. C'è chi la chiama patata spinosa, chi zucca centenaria, melanzana americana. In realtà è un ortaggio derivante da una pianta appartenente alla famiglia delle cucurbitacee, il cui nome scientifico è proprio secchio medule, quindi da qui il nome poi italianizzato secchio. Si presenta appunto con una dimensione arrotondata, quasi ovale, con un colore che può andare da un verde più o meno scuro a un giallognolo. Contiene una serie di aghi puntiformi sulla superficie che però sono poco pungenti. E dà la consistenza all'interno della polpa più simile ad una patata, ricca di acqua e contiene un nocciolo. Da un punto di vista nutrizionale 100 grammi apportano 20 calorie e sono ricchi di sali minerali, soprattutto potassio, magnesio, calcio, ferro e vitamine del gruppo B e vitamine C. Quindi con queste poche calorie ovviamente è molto indicato per chi è a dieta, quindi per chi deve seguire dei regimi ipocalorici. Il potassio e la ricchezza di acqua le fanno un alimento diuretico, quindi utile per contrastare la ritenzione idrica e abbassare i livelli di pressione arteriosa. E' ricco di fibre, quindi facilita la digestione, regola il transito intestinale ed ha anche un buon senso di sazietà. Contiene calcio che è importante per l'apparato scheletrico, soprattutto per le donne in menopausa e acido folico che è anche importante per le donne in gravidanza. Oltre ai tanti benefici sono previste anche delle controindicazioni se se ne fa un uso eccessivo? No, in effetti non sono note delle controindicazioni particolari se non delle possibili allergie individuali, quindi a cui ognuno deve fare attenzione. Comunque prima di consumarne anche in grosse quantità, soprattutto se non si è mai consumato questo ortaggio, è bene partire da delle quantità, delle porzioni un po' più povere, quindi inferiori. In cucina si può consumare sia crudo che cotto e in realtà oltre al segchio vero e proprio sono commestibili anche le foglie e le radici. In genere comunque viene consumato appunto crudo in insalata oppure cotto con metodi di cottura molto semplici, quindi bollito, al vapore, al forno, però si presta anche come ingredienti di risotti. Dottore, ricordiamo i suoi riferimenti per chi volesse chiedere un consiglio, un'informazione. Sì, allora potete scrivere a nutrizionericci, chiocciolavigilio.it oppure per prendere un appuntamento telefonare al 338 57 117 13. Noi ringraziamo il dottor Ricci e la rubrica nutrizione e benessere vi dà appuntamento a dopo le festività natalizie.